Adesso cambiamo completamente argomento, in alto adige gli aborti sono in aumento dello 0,7% più che raddoppiata negli ultimi sette anni la quota di donne straniere che scelgono l'interruzione volontaria della gravidanza. Vediamo servizio. Gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza notificati nel corso del 2008 dalle strutture sanitarie della provincia di Bozzano sono stati 586 con un incremento dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Di questi l'86,5% ha riguardato donne residenti nel territorio provinciale. Dai dati Astat risulta che il tasso di abortività è pari a 5 ogni mille donne in età feconda dai 15 ai 49 anni. Si è interrotto il continuo trend in ascesa nel tempo del numero delle interruzioni volontarie di gravidanza effettuate da donne con cittadinanza estera. Nel 2008 hanno rappresentato il 36,9% del totale registrando un leggero decremento di 1,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Delle 216 donne straniere il 53,7% proveniva da paesi dell'Europa dell'Est. Il contributo delle donne con cittadinanza straniera che si presenta come fenomeno stabile e strutturale maschera la continua riduzione del fenomeno tra le donne italiane. Dal 2001 al 2008 la quota delle straniere sul totale delle donne che hanno effettuato l'interruzione volontaria di gravidanza è passata dal 17 al 36,9% con un aumento di 19,9 punti percentuali.